...from the Professional Associations of Macerata. Si ringraziano 100 mecenati per il fondamentale contenuto attraverso Art Bonus. Special thanks to our patrons, the 100 mecenati, for their support through the Art Bonus Company. Vi ricordiamo che in tutta l'arena è vietato a fumare, anche se da rette elettroniche, che non si possono effettuare foto e video. I telefoni cellulari dovrebbero essere spedetti. Vi ricordiamo che attraverso foto e video durante la performance non è permesso e che i telefoni dovrebbero essere spedetti. E anche, l'arena è un strumento che non si può essere spedetti. Grazie. 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 Grazie.